Ciao ragazze e ciao ragazzi, eccomi qua con un video speciale per augurarvi buon Natale e farvi tanti tanti auguri e ci tengo tantissimo tantissimo a fare tanti auguri di buon Natale a voi e alle vostre famiglie a mandarvi un bacio grande e ringraziarvi tutto il vostro affetto, degli auguri che mi avete fatto un po' ovunque e quindi così in versione natalizia vi dico anche chi ha vinto il giveaway, quello grandissimo dei miei prodotti che vi ringrazio tantissimo tantissimo di aver partecipato, veramente numerosi mi avete proprio fatto proprio contenta contenta perché avete apprezzato tantissimo questo regalo, quindi a breve vi farò sicuramente di nuovo un giveaway così con tutti i miei prodotti quindi non vi disperate insomma se non avete vinto, queste persone ovviamente mi dovranno mandare un messaggio privato nei rispettivi social, ad esempio su youtube, messaggio privato su youtube, su facebook, così io vedo che corrisponde il nome ovviamente se no non lo posso sapere, quindi su youtube betty bett e di aria, vi ricordate che erano due invece su facebook emily kogo e sul blog stefania zonta e invece su instagram irene cardu, quindi io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato tanti tanti complimenti a chi ha vinto e niente, vi mando un bacio grande e vi dico che c'è una sorpresa grande per voi un altro regalo che vi voglio fare e che vi farò domani su facebook, quindi domani proprio il giorno di natale vi faccio questa sorpresa su facebook perché non mi pare abbastanza, voglio fare un altro regalo quindi ci vediamo domani, vi mando ancora un bacio grande, ciao, buon natale ciao 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 buon natale a tutti i miei amici veloci, anche io ho avuto un regalino ma lo potrò aprire soltanto a mezzanotte e vai, cammina un po' e poi si ferma questo babbo natale è molto vecchietto ha circa 30 anni di vita questo babbo natale, è bellissimo buon natale buon natale mi hanno aggiustato sempre, mi hanno riparato, un saluto anche da Pachita buon natale ciao ragazzi ciao ragazzi vi mando un bacio grande buon natale 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 buon natale